Buongiorno, buongiorno a tutte, eccomi di nuovo qua è arrivata la My Beauty Box del mese e io ho già dato una sbirciata e voglio farvi vedere cosa c'è dentro allora stamattina ho un po' di tempo, sono le 11 più o meno del mattino e quindi mi dedicherò a girare almeno due o tre video stamattina per cui insomma mi vedrete per un po' così ho tagliato leggermente i capelli, ha voluto farmi il frangione, la parrucchiera io non ero tanto convinta però tanto, io cambio quindi mi va bene anche per un po' mi va bene anche la frangione dunque My Beauty Box eccola qua, ho già aperto dunque questo mese si chiama Design Your Beauty devo dire che è molto molto interessante ci sono tanti prodotti interessanti e anche di qualità per cui sono contenta perché appunto sapete le polemiche che ho fatto nelle scorse volte dunque sono delle brochure questa volta a differenza delle altre volte hanno mandato una mail in cui chiedevano siccome c'era la possibilità di scegliere determinate cose, cioè c'erano tre prodotti due prodotti e hanno mandato una mail per cui ognuno poteva scegliere quello che più si adiceva alle proprie esigenze per cui mi è sembrata una cosa già particolarmente furba la prima cosa che chiedevano la nostra quello che ci piaceva di più era Monoderma Monoderma, eccola qua Monoderma, vitamina pura, concentrato di bellezza praticamente è una nuova linea di prodotti dermocosmetici studiata per regalare alla tua pelle vitamina pura alla concentrazione ottimale senza l'aggiunta di conservanti coloranti e profumo e poi sono formule minimaliste garantiscono un'elevata tollerabilità praticamente c'era la possibilità di scegliere tra queste tre la prima era al retinolo la seconda era all'acido ascorbico e la terza era al tocco fenolo praticamente la prima era anti rughe la seconda anti aging e la terza idratante allora io ho scelto questa anti aging perché di idratante di cose idratanti per il viso ne ho tante e ho voluto provare questo dunque il packaging è molto molto carino praticamente non so se vedete all'interno ci sono tutte delle capsule e queste capsule tipo ampolline hanno, queste qua sono anti aging ma soprattutto schiarente quindi da utilizzare per quelle macchie quelle macchiette che ci sono sul viso senza profumo e senza conservante è una soft veggie caps quindi una capsula vegetale e se le mette una o due monodose al giorno questo appunto è utile nel trattamento delle discromie nelle macchie da iperpigmentazione e nel fotodanneggiamento per esposizione al sole è l'unica in grado di mantenere la proprietà della vitamina C pura evitando nell'inattivazione da luce solare e contatto con l'ossigeno perché appunto sono monodose tu la apri, la utilizzi subito la metti non c'è possibilità che vada a contatto con l'aria e quindi niente mi è piaciuto molto sia l'idea del prodotto in sé per sé sia il fatto che mi abbiano fatto scegliere tra l'altro fino al 13 aprile c'è uno sconto per chi vuole fare l'abbonamento alla My Beauty Box ve lo faccio vedere così se volete andate sul sito e mettete questo codice c'è uno sconto del 10% il codice è aprile 10 ed è valido fino al 13 di aprile quindi di questa di questa monoderma vi ho detto io ho scelto questo dunque si dice di metterlo due volte al giorno quindi uno potrebbe fare un bel trattamento magari prima dell'estate mattina e sera sarebbe sarebbe carino quindi questo super super curiosa e figurati se non suona il campanello eccomi qua c'è anche me o dietro di me bene era il tecnico del gas che doveva leggere i numeri del contatore tutto a posto togliamo gli occhiali e continuiamo il nostro discorso quindi monoderma vi ho fatto vedere poi cosa c'è di altro le seguiamo qua System Professional Italia Repair Conditioner crema riparatrice 30 secondi ed è questa eccola qua una sontuosa crema disciplinata che rinforza e ammorbidisce i capelli riparandoli efficacemente in 30 secondi garantisce una pettinabilità migliore e capelli lisci al tatto ideale per chiome danneggiate deboli e sfibrate difficili da pettinare se bagnate quindi quando ti fai quegli shampoo che poi alla fine non riesci più a pettinarti questo è ideale è un rimedio veloce ed efficace e se siete in cerca di un rimedio veloce ed efficace questo è il prodotto che fa il caso vostro i vostri capelli saranno a prova di party questa è una travel size da 30 ml consigli d'uso dopo il lavaggio applicare una o due dosi di conditioner sui capelli bagnati distribuire col pettine e lasciare in posa 30 secondi emulsionare e sciacquare a fondo bene vediamo se c'è qualche odore o se è chiuso il profumo è buono benché io sia raffreddata perché è arrivata la primavera ragazze e la mia allergia è di nuovo qua bella viva che mi attacca ok prossimo prossimo prodotto bellissimo cioè veramente un fondo tinta non so se mi spiego free age make up un brand che non ho mai sentito devo dire e il fondo è questo qua eccolo skin e clay fondo tinta effetto lifting spf 15 questo eccolo qua io l'ho aperto per provarlo sulla mano eccolo qui vederlo dal botticino sembra un po' chiarino però poi l'altro giorno che l'ho messo qua sulla mano quando poi l'ho spalmato andava anche bene facciamo qua la prova no non è male devo dire che è abbastanza giusto per il mio incarnato e mi pare che anche di questo appunto abbiano chiesto di scegliere la tonalità che volevamo in quella famosa mail che è arrivata un mese fa una che mi ricordo tanto bene però mi pare che abbiano detto di scegliere se volevamo tipo chiaro e medio e io ho preso questo medio e devo dire che va benissimo sulla pelle cosa dice di interessante dunque texture fondente cremosa e non grassa che restituisce un incarnato visibilmente più disteso e naturale e un risultato impeccabile per tutto il giorno la sua texture è effetto seconda pelle garantisce un risultato omogeneo e naturale c'è dell'acido ialuronico con un effetto tensore immediato e un'azione riempitiva per un viso più disteso e giovane come rimodellato arricchito con lo special human filter capace di aiutare a preservare la pelle da tutte le dirette conseguenze dell'inquinamento perdita di collagene sovrastimolazione della melanina infiammazioni e rossori è una full size 27,5 cioè non è i classici 30 se sono voluti differenziare 27,5 bene niente di ciò si può utilizzare come al solito con spugnetta o con pennello però devo dire che è bello luminoso la pelle è bella radiosa luminosa non è appiccicoso è leggero nel senso che non sento la patina secondo me questo è un ottimo un ottimo prodotto e sono contenta di averlo ricevuto poi andiamo avanti Nabla cosa c'è di Nabla questa volta c'è c'era la possibilità di avere o un blush glowy o un illuminante glowy io cosa ho ricevuto l'highlighter stick extra glam allora illuminante ve lo faccio vedere eccolo qua fatto così solido così che entra e esce è bellissimo perché l'altro giorno l'ho provato guardate che luminosità non so che riesco a farlo vedere è rosa gold la tonalità ecco così si vede rosa gold molto molto bello sì io già oggi l'ho già messo infatti non so guardandomi dalla telecamera vedo abbastanza che si nota l'illuminante comunque questo è un altro prodotto che mi piace molto sono contenta di aver ricevuto un brand che mi piace Nabla e quindi insomma una box che merita vediamo illuminante in effetto in stick effetto glowy uno stick viso dalla formula cremosa e scorrevole ricco di perle super luminose specchiate il suo potere illuminante è massimizzato dagli oli e dalle cere presenti nella formula la particolarità del prodotto sta nel finish cream to glossy la formula non si asciuga ma dona alla pelle un effetto specchiato e una tridimensionalità senza pari un prodotto super semplice a prova di errore e adatto a chiunque abbia voglia di brillare di una luce extra glam c'era in due colori nude job o surreal questo cos'è surreal bene dunque è possibile applicarli prima di fissare la base con la cipria per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare poco fondotinta di base sulle aree di applicazione sugli occhi vi permetteranno di avere un look no make up effetto glossy bene lo troverò questo veramente sono curioso di vedere come va addosso poi kiss cos'è kiss non lo so sarà questo sono arrivate queste unghie qua vi faccio vedere eccole qua sono delle unghie press on manicure da come si vede dalla figura ci dovrebbe essere l'unghia con una pellicolina che si toglie e poi si applica sull'unghia stessa io adesso ho lo smalto quindi non voglio andarlo a prendere però praticamente ci sono queste unghiette con una pellicola si rimuove la pellicola si mette sull'unghia si pressa e rimane lì questo è un color un rosa un rosa evidenziatore ecco allora unghie in press grazie al viadesivo ultra sottile con tecnologia super old garantiscono massima aderenza e confort chissà quanto reggono per una tenuta perfetta dal brunch pomeridiano ad una serata elegante potrete abbinare facilmente la manicure al vostro outfit in pochi minuti ma certo poi mentre se lì si staccano sarai mancabilmente nel colore pantone dell'anno living coral questo è living coral scusate allora devi selezionare l'unghia in base alla grandezza appunto dell'unghia stessa e ebbene applicare le unghie dei pollici sempre alla fine le unghie sono dotate di un adesivo sensibile alla pressione quanto più si preme con forza verso l'unghia naturale tanto più forza sarà l'adesione ad essa con una conseguente maggiore resistenza se si è indecisi tra due misure di unghie scegliere la più piccola dopo l'applicazione le unghie possono essere limate per ottenere la lunghezza e la forma desiderata rimozione sentiamo un po' sollevare delicatamente l'unghia dai lati o tamponare con acetone tra l'unghia naturale e l'unghia impress attendere un minuto e staccare se necessario usare il bastoncino da manicure per aiutare la rimozione allora sembra che si attacchino bene no? ma carino da provare non io perché appunto io ho le mie unghie mi vanno bene così vedrò vedrò a chi darle e poi ci sono dei campioncini guardate che carini in questa borsettina eccola qua della B-Lift dunque c'è la linea completa una linea anti-aging globale che offre mi piace questa borsetta che offre efficacia tecnologia e risultati gli speciali attivi contenuti in formula offrono un'azione anti-aging potenziata la soluzione peptidica contenuta in dosi pari al 5% aiuta a tenere le rughe bla 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 l'acido ialuronico praticamente qui dentro ci sono tutti dei campioncini che è pure carino tenere la borsetta e dentro ci sono tutti questi campioncini eccoli qua crema viso crema collo decollet contorno occhi gel viso ad effetto lifting siero in gel ad effetto lifting crema viso ad effetto lifting questo invece crema viso ad effetto lifting plus quindi proprio bene anche questo comunque avete visto ci sono un sacco di cosine veramente interessanti proprio e poi cosa c'è ancora cos'è questo system professional che cos'è questo allora questa è una crema rilassante è sempre per i capelli penso non è scritto qua in italiano ecco è un campioncino crema riparatrice 30 secondi va bene e niente vi ho fatto ah sì sì è il campioncino insieme a questo questo travel size e questo campioncino vi ho fatto vedere tutto stavolta la box mi è piaciuta ci sono tanti prodotti interessanti poi vabbè un fondotinta ciò voglio dire la spesa questa volta ne vale ne vale la pena perché comunque il costo di un fondotinta il costo di queste fiale monouso l'illuminante di nable eccetera quindi proprio ricca ricca una box molto molto ricca va bene allora il mio video unboxing finisce qua ci vediamo presto al prossimo video lasciate un like e iscrivetevi se non siete iscritte ciao